S'ambannate S'ambannate? Ti fa fuori Tu riprendi, tu riprendi Ti fa fuori Fai level 16 Gol! Rete, rete, rete 1-0 per la Virtus Castelfrentano Calcio di rigore Che l'ha battuta? Luca Rulli numero 10 Luca Rulli ha portato in vantaggio la Virtus Castelfrentano Qua della vittoria di Castelfrentano Via Nazionale